Omega Globemaster, armonia tra design e prestazioni di eccellenza. Nel panorama dell'orologeria di alta gamma, spicca il modello Globemaster, un orologio da polso che fonde con maestria un design straordinario e una precisione senza eguali. Questo eccezionale orologio incarna la perfetta armonia tra stile senza tempo e tecnologia all'avanguardia, offrendo una testimonianza della dedizione all'eccellenza e all'innovazione. Il Globemaster è un capolavoro che riflette l'impegno costante per la precisione e l'arte orologera. Questo orologio rappresenta l'evoluzione dell'orologeria tradizionale attraverso un design senza tempo e una tecnologia di ultima generazione, risultato di anni di ricerca e innovazione. Una delle caratteristiche più riconoscibili del Globemaster è il suo design sofisticato e raffinato. La cassa, spesso realizzata in materiali pregiati come l'oro o l'acciaio, riflette l'attenzione ai dettagli e l'artigianato impeccabile. Il quadrante, impreziosito da indici accurati rappresenta l'essenza dell'eleganza senza tempo. Il quadrante P.E.P.A.N. ovvero con bordo esterno svasato ricorda il primo modello Constellation del 1952. Come complicazioni su alcune versioni del modello Globemaster possiamo trovare la data ore 6 e tra le sfaccettature si può trovare un mese dell'anno in linea con la funzione calendario annuale. Oltre al suo design straordinario, il Globemaster offre una precisione meccanica senza eguali. Questo modello spesso ospita movimenti meccanici di alta qualità, garantendo un cronometraggio affidabile e costante. La scelta accurata dei materiali e l'attenzione ai dettagli nella produzione del Globemaster riflettono la dedizione alla qualità superiore. Il Globemaster è stato indossato con orgoglio da celebrità e personalità famose nel mondo dell'intrattenimento e della moda. Questo modello è apprezzato per la sua eleganza senza tempo e la sua tecnologia all'avanguardia. Molte celebrità di spicco hanno scelto il Globemaster come accessorio di stile, contribuendo ad accrescere la sua notorietà. La sua storia di eccellenza, il design sofisticato e il movimento meccanico senza pari lo rendono un oggetto desiderabile per coloro che cercano un equilibrio perfetto tra stile e prestazioni. Che sia indossato in occasioni speciali o nella vita di tutti i giorni, questo orologio sarà sempre un simbolo dell'apprezzamento per l'estetica senza tempo e la dedizione all'arte orologera.